Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Ghetto Reggio Rosso 94. In questo secondo video di giornata volevo analizzare insieme a voi le parole di Fassone e Mirabelli dette in un'intervista pochi giorni fa, anzi direi poche ore fa, delle parole riguardanti la loro esperienza in rosso nero, che ormai possiamo definire finita perché sono stati entrambi cacciati dalla dirigenza rossonera, e quindi hanno detto un po' delle loro opinioni sul proprio operato. Ma tra tutte le frasi che hanno detto, che vi dirò comunque in questo video, ce n'è una che mi ha particolarmente colpito. Hanno iniziato parlando di Gattuso, dicendo che gli farebbero questa scelta perché secondo loro è uno degli allenatori più sottovalutati nel panorama calcistico italiano e su questo non gli do neanche troppo addosso, cioè per me hanno ragione, per me Gattuso è un buonissimo allenatore, non perfetto, però per il Milan attuale secondo me va benissimo, anche se deve trovare un pochino di continuità nei risultati. Hanno parlato un pochino del loro calcio mercato, di Bonucci che pensavano potesse rimanere al Milan fino a fine carriera, ma purtroppo non hanno fatti conti con la sua mercenariosità, ecco mettiamola sotto questo punto di vista, non ve la prendete però, il suo comportamento per me tuttora rimane incomprensibile, perché se vuoi stare sempre alla Juve ci rimani sempre, non è che piangi, vai al Milan e poi torni come figlio al prodigo, opinione mia personale, ma soprattutto hanno detto una frase che mi ha fatto un po' pensare. Hanno detto che non rifarebbero la scelta di prendere il Donnarumma fake, ecco ve lo dico proprio alla social, ecco, nell'ambito del rinnovo del fratello Gigio Donnarumma. E io voglio subito analizzare questa frase con una domanda. Ma voi che cazzo vi aspettavate da Donnarumma fake? Cioè io, allora, io non capisco perché queste frasi vengano dette, cioè è ovvio che non dovevate prenderlo lui, perché che vantaggio è? Avete dato un milione in più a un giocatore terzo portiere, che tra l'altro non ha fatto neanche tanto male, perché quant'è ne ha giocata una o un'altra in campionato, e tra l'altro nel derby è facendo anche una discreta prestazione. Quindi veramente, cosa vi aspettavate di più da Donnarumma fake? Cioè voi l'avete preso da una squadra di cui ancora adesso non si sa il nome, ha giocato nel gubbio, ha fatto male nel gubbio, e non lo dico perché sono contro di lui, ci mancherebbe, e non sono contro i giocatori non forti, scarsi, ecco diciamo scarsi. Però, allora, voi con quale criterio avete pensato che era una scelta giusta portare il fratello scarso di Donnarumma in squadra, dandogli un milione? Era ovvio che era una scelta assurda, ma lo era fin da principio. Movene accorgete che intoccava prenderlo, Movene accorgete che intoccava dagli un milione all'anno, un milione all'anno. Io su questa cosa non le capisco, cioè adesso che non fate più parte della dirigenza, che se diciamo a cuor libero, vengono in mente che certe scelte non andavano fatte, ma era scontato di principio che voi vi siete fatti perculare, ecco diciamo il termine perculare da Raiola e tutte quante le persone che hanno gestito questo rinnovo, perché Donnarumma è passato dal prendere una tot cifra, a non rinnovare, a piangere, a passare da mercenario, per poi rimanere, prendere più milioni e addirittura, udite udite, a mettere il fratello Scars in rosa soltanto perché è suo fratello, perché non penso proprio che l'hanno preso per i suoi valori tecnici. Anche se queste ultime frasi mi fanno pensare ciò, perché se tu ti lamenti che non dovevi prendere Donnarumma fake, forse perché pensavi che era forte e non lo era, ma perché? Non ha senso questa frase, non ha senso, perché Donnarumma per il suo valore tecnico ha fatto anche troppo, perché ha giocato due partite, ha fatto discrete prestazioni, non potevate aspettarvi veramente nulla di meglio, pari del mio. In più gli avete dato un milione, ma vi pare che lui lo rifiutava, cioè adesso perché secondo me è stata una scelta sbagliata, perché ha influito in maniera negativa nell'ambito del rinnovo? No, non ha senso. Voi potevate benissimo gestirvi meglio questa situazione, invece vi siete fatti prendere in giro da un manager come Raiola, che fa benissimo il suo lavoro, un agente che fa benissimo il suo lavoro, per quanto è considerato un po' meschino, ma fa bene il suo lavoro, e siete stati costretti, diciamo non ricattati, ma diciamo costretti, a prendere il fratello perché se no il fratello più forte non vi avrebbe rinnovato. Quindi dichiarazioni di questo genere secondo me sono futili, sono inutili, cioè è inutile dire non l'avremmo preso ripensandoci, ma ripensandoci cosa? Cioè voi non dovevate prenderlo subito, è facile dirlo adesso, cioè io veramente non capisco, io sono d'accordo con le frasi già citate su Gattuso, su Bonucci, perché per me Bonucci ha fatto, si è comportato da merda, ecco, non perché adesso è la Juve e non ricominciamo questi discorsi, ma si è comportato da merda, però questo discorso di Donnarumma, pur essendo d'accordo con le parole che hanno detto, non capisco perché, perché ne dicano, perché non era assensata la scelta prima e non lo è tuttora, quindi perché l'avete fatta? Sappiamo il perché, perché se no Donnarumma forte non sarebbe rimasto, ma allora non vi tirate indietro adesso perché ormai l'affrettata l'avete fatta, è molto meglio dire, non avremmo preso Donnarumma, l'abbiamo preso perché se no zizzo Donnarumma con Meno Raiolas sarebbe andato un po' di San Germano e ce la saremmo presa nel culo, ecco, semplicemente così, senza tornare indietro alle scelte che, secondo me, sapevano anche in quel momento di che erano sbagliate. Poi questo ovviamente è un parere personale. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti, voi che se ne pensate delle parole di Mirabelli, Mirabelli, di Fassoni Mirabelli, inerenti al loro operato, diciamo, nella dirigenza rosso-nera, stavo dicendo già lo rosso, ormai ci sono abituata, ma comunque dirigenza rosso-nera, vada e retro, ovviamente vada e retro. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque forza a Roma. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!